una spesa dopo millenni una spesa ciao è domenica si è una domenica nevosa perché ha indiancato tutto partiamo con questa spesa sono ancora vestita perché sono appena tornata e sono rimasta così cosa c'è cosa ecco arrivato pepe il tè l'ipton me lo faccio sempre la mattina e o tipo 34 bustine 5 forse no avete che io non posso vivere con poche bustine poi franz si è preso invece sapete che io non posso mangiarlo comunque si è preso il kinder bueno la confezione però da sei pacchetti furbo siamo andati alla eo e abbiamo usato i buoni spesa con i pasto e quindi di tutta questa spesa che era sui 50 qualcosa euro abbiamo pagato 19 euro e qualcosa a qui c'è un pezzo di formaggio ne ho preso solo uno perché poi domani andrò a belluno quindi e quindi vabbè 3 ore 26 questo è il formaggio focobon cooperativa a gordino a godino non ho bevuto è voi due caffè pellini però ho preso questo qui cremoso perché alla eo non tengono più la confezione singola di quello rosso la versione tradizionale tengono solo questo in versione singola non so che scelte facciano ogni tanto mi sorprendono delle uova sei uova fresche biologiche infatti sono cielo zero all'inizio vuol dire che sono biologiche perché è bello in queste confezioni sono bianche tra l'altro c'è anche una piuma queste confezioni viene spiegato il tutto e queste scadono il 7 febbraio non so quando andrà online questo video qui c'è questo mix l'abbiamo preso giusto per stasera poi sempre franzi preso le caramelline sila alla menta hanno la stevia quindi sapranno un minimo di liquirizia qui ci sono i pomodorini poi ha sempre franza si è preso un quadernino che gli serve al lavoro per scrivere i consumi del gasolio vabbè insomma comunque le l'ho scelto io il quadernino poi ci sono due confezioni di prosciutto che era in offerta da 2 euro e 77 a un euro e mi ricordo 78 di circa un euro di differenza insomma comunque questo qua della veretta che devo dirvi che è buono e poi non ha niente non ha glutine lattosio polifosfati e quindi va benissimo per me che calato se così panna se dovete sapere che qua dentro c'è una puzza incredibile c'è la puzza di cacca di pipo che l'ho già pulita è però nella puzza c'è rimasta mi scuso se vedete ogni tanto ora o chewing gum e poi c'è il profumo della biancheria pulita quindi c'è questo mix che fa schifo ci siamo ritrovati in questa spesa un dentifricio non sappiamo la dove arrivi questo dentifricio perché non l'abbiamo preso noi probabilmente era di quelli che era indietro che c'era cassa chiusa hanno messo lo stesso la roba senza dividerla dalla nostra probabilmente questo è andato in mezzo cioè la gente è proprio stupida no se la cassa è chiusa non metti niente sul come si chiama quell'affare va bene insomma volevo cercare il lo scontrino perché è qua da qualche parte no così vediamo eccolo qua sì sì l'abbiamo pagato per forza che cos'è questo colgate colgate col gatto col gatto o male che male questa circolazione madonna che fitte ho sempre male all'anca non ho ancora non so ancora quando farò le ecografie alle due anche ma questa quasi infiamma spesso spesso dolori panna non mangiare il pane amore mio allora vediamo subito se lo trovo però col gatto non lo trovo mica eccolo qua 2 euro e 49 va sempre bene quindi ce lo siamo tenuti quando ci siamo accorti ce lo siamo tenuti basta quando panna inizia a andare in tutte le borse mi dà un fastidio perché poi crea una confusione su tutti i video si sente no quindi questo era lo scontrino vabbè poi sempre franzo si è preso questo ci deve fare una roba deve pulire lasciamo perdere ho preso due confezioni di views sapete che non li mangiamo spesso una volta al mese in genere una volta al mese una e ho preso questi erano in offerta almeno di un euro ma ho letto che comunque non sono quelli senza lattosio li ho presi lo stesso però dovrò stare attenta l'unico sacchetto di patatine queste qua della pizzoli le allegre casalinghe le uniche rimaste penso abbiano cambiato packaging packaging sì e questo è quello vecchio quello nuovo un po diverso eccolo qua quello nuovo ve lo faccio anche vedere questo è quello nuovo comunque sono le stesse alla fine il gusto è lo stesso quindi vabbè ha preso uno di questi che c'era poi qui ci sono delle banane che sono già mezzi andate tipo queste dove sono quelle un po andate bene ho presi due che erano già un po avanti per così le mangiamo oggi non so dove appoggiare la roba poi è improvvisato questo video è a beh 11 54 e tardi volevo andare dai miei ma è già effettivamente tardi mele le valve nostra quelli verdi 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 qui ci sono due finocchi che fanno pietà poverini fanno pietà poi franzo mi ha preso l'ho vitto e ho vinto kinder e poi mi sono preso al deodorante invece perché me l'ho finito e quelli della del calendario dell'avvento fanno schifo ecco ve lo dico fanno schifo non funzionano su di me perché sono vegani non hanno niente di chimico non funzionano e poi ci sono le clementine queste erano a 3 euro e 29 al chilo spero siano buone spero veramente però sono della spagna perché avevo comprato delle clementine all'ipertosano di italiane italiane della sicilia uno schifo non sapevano da niente buccia durissima difficilissima da togliere e poi non avevano quel buon gusto da clementina non sapevano da niente orrende per fortuna erano italiane per fortuna e allora mi sono presa queste spagna non importa ma secondo me saranno più buone poi è una borsa siamo andati con la jeep quindi non avevo non mi sono ricordata di prendere le borse quindi le abbiamo comprate ma queste qua sono comode per l'umido quindi delle patatine c'è anche qua fanno dei pacchetti enormi le riempiono li riempiono a metà ma ha senso questa cosa poi del pane queste sono le mantovane 3 euro e 30 al chilo 1 euro e 69 perché non riesco mai andare a prendere il pane crackers doriano che non ce ne erano più ultime due cose importantissime in una casa la carta da cucina e la prossima la carta da cui sapete che ormai io sono amante di queste due di questo marchio diciamo comprami sempre quindi non è proprio economico è proprio questi anche questi rotoloni qua durano tanto di carta da cucina almeno a me durano tanto e a cartigianica anche parecchio quindi niente questa era la spesa per oggi io le mie carte qui vi salutiamo adesso metto via il tutto e devo fare fuoco perché ho da asciugare tutta la biancheria che ce l'ha più la roba che c'è ancora lavatrice che devo ancora tirare fuori che era finita stanotte la lavatrice e devo ancora andare aprirla tirare fuori la roba speriamo bene ecco quindi ne ho di cose da fare in realtà vi ringrazio per essere stati in questo video un po diverso dai blog e avevo fatto un sondaggio c'è ancora il sondaggio qui su youtube nella community e avete scelto quasi tutti i blog però mi avete dato delle idee anche a alternative ai blog e quindi vedrò cosa riuscirò a fare ecco da qui in poi per il momento o dei blog da mettervi quindi state tranquilli per un po perché sto comunque continuando a registrare magari un po un giorno un po un altro un post altro non sono dei blog della settimana però non sono neanche dei blog giornalieri non vi siete liberati di me assolutamente anche se ogni tanto non carico video non vi preoccupate io sono sempre qua e ci vediamo vado a cambiarmi anzi vado a togliermi la giacca ma si sta bene con la giacca e seguitemi su instagram anche se devo ripreparare foto da caricare sono un po indietro di nuovo ci vediamo anche lì statemi bene alla prossima ciao